Ecco i ragazzini, i nostri baby calciatori della scuola carcio, diviso in due gruppi, là in fondo c'è il mister Giovanni Di Giulio con il suo gruppetto e qua c'è il mister Camillo di Biase con il suo gruppetto, i baby calciatori. Ecco i ragazzini, i nostri baby calciatori, futuri campioni, oggi è una bella gioia, giornata, c'è il sole, l'aria è un po' frizzantina, però ai ragazzi gli fa bene, il posto di giocare con i tablet cellulari si divertono giocando a calcio, va bene al fisico e alla mente. Questo è il gruppo di mister Giovanni. A quest'altro lato ci sta preparando mister Renato, il nostro presidente, con un altro gruppo di baby calciatori, ha preparato già l'attrezzatura, porte di varia grandezza, birilli, cinesini, attrezzatura. Ho fatto una panoramica adesso, sta a posto.